Con questo tutorial vediamo delle espressioni di riepilogo di frazioni algebriche. Partiamo da questo esempio. Qui la prima cosa che bisogna fare è il minimo comune multiplo, che è pari a 4 alla seconda y. Ora, questa quantità diviso questa quantità è 1 e ricopio alla terza meno 2. Questa quantità diviso 2 è pari a 2 alla seconda y per 1 e lascio 2 alla seconda y. Questa quantità diviso 4y ottengo a alla seconda per meno a e scrivo meno alla terza. Ed infine questo diviso questo ottengo 2 per 1 e scrivo 2. Ora vediamo cosa posso semplificare. Ho meno 2 e 2 che si cancellano, poi c'è a alla terza e meno alla terza che posso semplificare e a numeratore mi resta 2 alla seconda y. Ora vediamo cosa posso semplificare in verticale. Ho y e y e allora questo va via con questo, poi ho alla seconda e alla seconda che posso di nuovo semplificare ed infine ho 2 e 4. 2 diviso 4 è pari a un mezzo. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che devo fare è scomporre questa quantità perché è una somma di cubi, questa quantità è una differenza di quadrati. Da diviso passo a per e qui metto in evidenza un 2 e qui metto in evidenza una z. Vediamo ora cosa posso semplificare. Questi due fattori sono uguali tra di loro e allora questo va via con questo, poi ho z più t e z più t che posso semplificare ed infine z meno t con z meno t e quello che mi resta è 2 fratto z. Vediamo quest'altro esempio. Qui la prima cosa che bisogna fare è il minimo comune multiplo che è dato da alla seconda per via la seconda. Ora alla seconda via la seconda diviso alla seconda via la seconda è 1 e allora vuol dire che questa quantità la dicopio così com'è, però al posto di scrivere a meno 1 per a più 1 scrivo direttamente alla seconda meno 1. Alla seconda via la seconda diviso alla seconda mi resta via la seconda che devo andare a moltiplicare per meno 1 più 2 a quadro ed infine questo diviso questo fa 1 e ricopio via la seconda più 1. Osservo ora che qui ho meno 1 e qui 1 e allora questo lo semplifico con questo. Adesso svolgo questa moltiplicazione. Osservo ora che posso semplificare meno b quadro con b quadro. In quello che mi resta posso invece mettere in evidenza un a alla seconda. A questo punto posso semplificare a alla seconda con a alla seconda e quello che mi resta è il risultato di questa espressione. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo che è pari a 6x alla seconda y alla seconda. 6x quadro y quadro diviso 1 è 6x quadro y quadro per 1 e scrivo 6x quadro y quadro. Questa quantità diviso x quadro mi resta 6y quadro per meno 1 e scrivo meno 6y quadro. Questo diviso 3y quadro ottengo 2x quadro per meno x e scrivo meno 2x cubo. Questo diviso questo è 1 e allora questa quantità la ricopio così com'è. Ed infine questo diviso 6x quadro mi resta y quadro per meno y ed ottengo meno y alla terza. Vediamo ora cosa posso semplificare. Ho y alla terza e meno y alla terza che vanno via. Ho meno 2x cubo e 2x cubo che vanno via e quello che mi resta è 6x quadro y quadro meno 6y quadro. Qui posso fare un raccoglimento totale andando a mettere in evidenza un 6y quadro. Ora posso andare a semplificare il 6 con il 6 e y quadro con y quadro e questo è il risultato dell'espressione. Vediamo quest'altro esempio. Qui a numeratore posso mettere in evidenza una x mentre il denominatore è un quadrato di binomio. Da diviso passa per, qui metto in evidenza un 2 e qui osservo che è un quadrato di binomio. Infine questo diviso lo trasformo in per e scrivo 1 fratto 4x alla seconda. Ora vado a semplificare questa x con la potenza 2, poi vado a semplificare il 2 con il 4. Vediamo ora cosa posso scomporre. Qui ho una differenza di quadrati e qui ho una differenza di quadrati. Osservo ora che qui ho x meno 2, x meno 2 e qui a denominatore è un x meno 2 al quadrato. E allora questo, questo e questo si semplificano. Vediamo ora le x più 2. Ho un x più 2 e un x più 2 al numeratore, a denominatore ho un x più 2 alla seconda. Allora questo, questo e questo si semplificano. Quello che mi rimane è 1 su 2x. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo che è 2x alla seconda y. Questo diviso questo è 1 e ricopio x più y al quadrato così com'è. Questa quantità diviso il denominatore di 3 è 1 e allora devo andare a scrivere 3 che moltiplica 2x alla seconda y. E quindi vado a scrivere 6x alla seconda y. Poi questo diviso questo fa 1 e ricopio questa quantità così com'è. Ed infine questo diviso x è pari a 2xy per meno 1 e scrivo meno 2xy. Sviluppo ora questo quadrato di binomio e questo quadrato di binomio. Questa parte la lascio tra parentesi perché qui di fronte c'è un segno meno. Vediamo ora cosa posso semplificare. Ho 2xy e meno 2xy che vanno via. Vediamo ora cosa posso semplificare. x quadro va via con meno x quadro, y quadro va via con meno y quadro. In quello che mi resta posso mettere in evidenza ora un 2xy e adesso posso andare a semplificare il 2 con il 2, la y con la y e poi la x con la potenza 2 di x a denominatore. E quello che mi resta 3x più 1 fratto x è la somma di questa frazione semplificata. Vediamo questo altro esempio. Qui a numeratore posso mettere in evidenza un 2, a denominatore posso effettuare un raccoglimento parziale. Qui vado a mettere in evidenza un b alla terza, qui metto in evidenza un 8. In questa parentesi e in questa parentesi effettuo il minimo comune multiplo. Ora qui a denominatore metto in evidenza un b più 1. Qui in questo fattore al posto di scrivere 4 meno b quadro preferisco scrivere b quadro meno 4 e qui di fronte metto un segno meno. Infine qui eseguo questa moltiplicazione. Vediamo ora cosa posso semplificare. b più 1 lo semplifico con b più 1. Ora vado a scomporre b alla terza più 8 perché è una somma di cubi. b alla seconda meno 4 lo scompongo per differenza di quadrati. Vediamo ora cosa posso semplificare. Ho b alla seconda meno 2b più 4 a denominatore e a numeratore e allora questo va via con questo. Poi ho b più 2 e b più 2. Ho infine b meno 2 e b meno 2 che si semplificano. E quello che mi resta meno 2 fratto b quadro è il risultato di questa moltiplicazione. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che faccio è eseguire questa moltiplicazione. Ora eseguo il minimo comune multiplo che è pari a 10mx. 10mx diviso 2m è pari a 5x che lo moltiplico per a meno x. Questo diviso 5x è pari a 2m per 11 e scrivo 22m. Questo diviso questo è 1 e allora questa quantità la ricopio così com'è. Infine questo diviso 2m è pari a 5x per meno a e scrivo meno 5ax. Ora eseguo questa moltiplicazione. Vediamo ora cosa posso semplificare. Ho 5ax che posso semplificare con meno 5ax, meno 5x quadro lo semplifico con 5x quadro ed infine sommo 22m con meno 2m. Ora posso andare a semplificare m co m e poi 20 diviso 10 ed ottengo come risultato semplificato 2 fratto x. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che devo fare è il minimo comune multiplo che è pari a 6ab. Ora 6ab diviso 2a è pari a 3b che moltiplico per a più 3b. 6ab diviso 3b è pari a 2a che moltiplico per meno 2a meno b. Poi 6ab diviso 6ab è 1 e allora riscrivo questa quantità cambiata di segno. Ed infine 6ab diviso b è pari a 6a che moltiplica a meno b. Ora effetto queste tre moltiplicazioni. Vediamo ora cosa posso semplificare. 9b quadro va via con meno 9b quadro. Fisso poi l'attenzione sulle ab. 3 più 2 fa 5 meno 6 e quindi scrivo meno ab. Fisso ora l'attenzione sulle a quadro. Meno 4 meno 4 fa meno 8 più 6 e scrivo meno 2a quadro. Ora qui posso mettere in evidenza un meno a. Ed infine vado a semplificare a con a. E questo è il risultato di questa somma. Vediamo quest'ultimo esempio. La prima cosa che vado a fare qui all'interno è il minimo comune multiplo pari ad ab. ab diviso a è pari a b e moltiplico questa quantità per b. ab diviso ab è 1 e questa quantità la ricopio così com'è. Infine ab diviso ab è 1 e vado a ricopiare meno a più b al quadrato. Qui ho un diviso allora da diviso passa per e già che ci sono qui a denominatore metto in evidenza un meno 9. Ricordo che qui avevo messo in evidenza un meno 9. Il meno l'ho messo qui di fronte. Sviluppo questo quadrato di binomio e scompongo questa quantità per differenza di quadrati. Qui ho già scritto questo quadrato di binomio con il segno cambiato. Vediamo ora cosa posso semplificare. a quadro va via con meno a quadro, meno b quadro, meno b quadro e 2b quadro che posso semplificare tutto ed infine 2ab con meno 2ab. Osservo che a numeratore non mi rimane niente quindi ottengo 0. 0 diviso ab è pari a 0 e quindi 0 per questa quantità ottengo 0 e questo è il risultato di questa espressione. E con questo termino il tutorial su espressioni di riepilogo di frazioni algebriche.